Questo è proprio un bel gioco, ed è molto animo, ed è un progetto spaziale, perché è Pokémon Giove. Oh, una bella intro, oh, oh, cosa... Allora, calma, una cosa alla volta. Lo sfondo rosa è bello, perché il rosa è bello. Che cazzo dovrebbe essere quella roba che... Vedo una specie di Pokéball fusa nella gamba di un Pokémon. Credo sia un Pokémon... Vabbè, andiamo avanti. Nuovo gioco. Che cazzo è quello? Che cazzo è? È la fusione di Silver e Saturno con i vestiti di Giovanni e la bandana di C-17. Cosa? Ciao, mio sfortunato compagno. Il nostro mondo sta collassando su se stesso e dobbiamo trovare riferimento. Il mio nome è Charon. Questo è un Poké... No, quello è un mostro. Il mondo dei Pokémon è molto abitato dai Pokémon. Eh, sì, giustamente. Sì, io e te siamo gli ultimi della nostra razza, i Saiyan. Eh, voglio dire, i Minoans. Io, essendo un senatore, mi sento obbligato a portare te e me in questa nuova terra. Tuttavia, non so chi cazzo tu sia. Eh, beh, sì. Porti il primo scemo che passa con te. E se fossi uno stupratore? Eh, eh, eh? Please select boy. E io sceglò. C'è un buco lì. Eh. Ah, ora ho capito perché avrei dovuto scegliere il ragazzo. Che bello. Che bello. Che bello. Immagino dovremmo entrare in questa grotta. Quanto cazzo sei bello. Il mapping è qualcosa di bellissimo. Quindi andiamo avanti. Non vedo ora vedere le altre cose. A me piace, no? Perché entri e ti ritrovi proprio così nella stessa posizione. Stupendo. Poi qua ci sono degli spiazzi che manco B-Sharp. Eccolo qua sto buco strano. Eccolo qui il buco. Non appena ci entreremo, probabilmente ci separeremo. Rintracciami appena poi. Muoviti, non abbiamo molto tempo. Non ho mai visto un bambino su una spiaggia. Vabbè, non è il mio problema. Eh? È sveglio. Quindi il tuo nome è Fuff. Cioè così, eh? Tutto in due secondi. Vabbè. Questo è fantabuloso. Fanta favoloso. Vabbè, fantabul. Il mio nome è signor Fabio Rosa. Cosa? Puoi chiamarmi signor Rosa? Sì, l'ho tradotto perché è bello, va bene. Sembra che tu non abbia un posto dove stare. Perché è nel mio posto favoloso. E andiamo. Cos'è sta roba? A me è un Pokémon. Dio mio! Ah! Si può cambiare la soundtrack. Io davvero, il mapping è qualcosa di bellissimo. Ah, non di nuovo. Ehi tu, sei un animatore. Prendi un Pokémon dalla borsa e aiutami. Con quale animazione me lo stai dicendo? Colgot Flara. Ok, io propenderei per il meno peggio che è questa specie di volpe furri con il ricciolo in testa. Vabbè, vabbè, non mi faccio più domande. Boombenubebi. Oh no! È la stessa cosa che ho pensato. Però è figo che si muovano. Cioè, è un hack di Rubino però. Gli sprays? Gli sprays? Gli sprays? Come cazzo volete voi se è un animale? Ehi, grazie. Di solito ho il mio Pokémon insieme a me. Però l'ho lasciato per sbaglio nella borsa. Questo non è il posto per parlare. Vabbè, dai, questo qui l'hai riciclato da Verge. Per qualcuno che sei veramente bravo, puoi tenerti il Pokémon. Sì, e lo chiamiamo decisamente FURRY. D'altro ho notato adesso che i colori cambiano. Oh, che bello. Ah, ma ci sono anche i Pokémon normali. Grazie a Dio. Ok, cos'è? Ah, è tipo un pistolacqua. Ok, va bene. Che cazzo sei te? La versione tumorata di Beedouf. Zephyr Town. Buono così. Che cazzo è questo. Dio mio. Basta. Pur lo hanno sottoacidi. Ah, eccolo, l'ho ritrovato. Vediamo se riusciamo a catturarlo. Ok, l'ho preso. Pokémon difeso. Dovrebbe essere Not Larvitar, però. Vabbè. Vediamo un attimo. È tipo Psico. No, questo qua è decisamente RALZ. Serve taglio per proseguire. Quindi dove cazzo devo andare? Aiuto! Mapping sempre sublime. Ah, si possono saltare le rocce. Carina come ho trovato. Si passa da un bioma all'altro in mezzo secondo. Qua sempre i soliti castori di merda. Oddio, questo qui è carino. Questo è carino. Lo ammetto. E lo voglio. Subito. Chiamo... Non so che cazzo di nome dargli. Dai. Ah. Ice. Seren Grace. Growl Pack Frost. Cioè, Frost. Proprio di prepotenza. Eh. Questo qua è Bagon con la faccia di un rinoceronte. Ed è bruttissimo. Quindi fuori dai coglioni. Coso. È scappato, giustamente. Ah. Vediamo se tutti scappano. Ah no. Mi sono fottuto un ATM completamente a ca... Vabbè. Hai ragione. Oh. Questa è una cosa carina. Ma perché mettono delle cose carine ma il resto del gioco fa schifo? Porca troia. E quindi questa era Pokémon Jupiter version. Cioè Pokémon versione giove. È una... Non lo so se sia bella o brutta. Cioè, allora aspetta. C'è un mapping di merda. Gli sprites fanno ridere. E... Cosa... Cosa sta? Quel piccione... Copy me movement. È bellissimo! È... Stupendo! Ok, torniamo a noi. È... Nulla. Cioè, si addice anche molto al canale ed è pure lunga quanto ho capito sta cosa. Quindi, potrebbe essere un'idea magari farci una serie? Perché tanto so che troveremo di sicuro robe di cui ridere. Cioè, se in dieci minuti ho trovato tutta quella roba bellissima, figuriamoci avanti. Non ho proprio di anzi, ho paura di quello che troveremo. Dai, magari fatemelo sapere nei commenti. Scrivetemelo davvero se lo volete invece di scrivere le solite puttanate ogni cazzo di volta. Però magari la ricomincio perché, sapete, per un'intera serie è questa cosa brutta da vedere. Eh no. Cioè, no. Ciao, comunque. Ciao.